Mentre Yoshi camminava nel suo villaggio molto spensierato, perché era molto felice, ad un tratta di vuoto al guardia che doveva darci una brutta brutta notizia. Torda, Yoshi! Lo sai che lo sapevi che il bosolo scuoto ha sfumato tutti i tuoi amici in gomitoli di lana? Ah, che cosa terribile! Ma Tordi, ma dove ci sono tutti i gomitoli di lana? Sono disposti tra i mondi e tra tutti i livelli! Oh no! Devo trovare tutti i gomitoli! Tu, mettiamoci subito in marcia! Ti auguro tanta fortuna! Appena troverai i primi gomitoli, portavete a me, così potremo ricostruire il primo Yoshi! Ok, ciao! Cominciamo il primo livello! Ok, cominciamo il primo livello! Ok, cominciamo! Ho un gombo, ora me lo pappo con la mia lingua! Ho mangiato in gombo! Ok, continuiamo! Voglio cercare attentamente tutti i spazi! Ci possono essere i gomitoli ovunque! Ok, un altro nemico! Un coccinello volante! Ok, continuiamo! Cerchiamo qui! Può essere un gomitolo! Infatti, come temevo io! C'è un gomitolo! C'è un gomitolo bianco! Ok, l'abbiamo preso! Andiamo, facciamo un grande fatto! Ok! Un attimo! Un cupa! Un altro coccinello volante! Questo qui è blu! Ah! Ah! Il primo livello sta arrivando molto facile! Oh! Che cosa è questa una pianta? Peccati questo Yoshi! Ah! 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 Mi ha sconfitto! Ah! 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 PRINCEP! V têmme moure questo! Ok! Ora, qua, c'è! Ah, ah... Ah! Il boss è! Che si piccolò ogni... Ah! Non prendere mai l'ultimo gomito Per ricomparire il primo Yoshi! Io... Te lo... No. Prendere mai l'ultimo gomito per ricompare il Piumo Yoshi Ah come ho fatto, gli occhi per scoprire pure i boss e prendiamo l'ultimo comitolo che è qua, in questa fessura. Ok, questo è l'ultimo comitolo che è quello rosso, ora portiamoli alla guardiatora per farli ricomponire. Già, prendiamo questi comitoli che abbiamo trovato e andiamo nella piazza degli Yoshi. Guarda per ricomporre i primi tre comitoli, sì certo. Yoshi sole, vieni a me, ricomponti nella tua forma normale. Ciao, Yoshi sole, come stai? Uh, grazie che mi hai salvato Yoshi, grazie a voi da casa mia, ciao. Yoshi riportati, domani cercare altri comitoli, ok? E poi aspettate domani per un altro episodio di Yoshi Wally World e ricerca dei suoi amici. A domani io vi faccio un picciolino. Ciao. Ciao.